E sempre più pazienti, professor Di Perri, che hanno avuto il covid, continuano a lamentare sintomi, sintomi debilitanti anche a mesi della negatività, come stanchezza cronica, affanno, omialgie, difficoltà a concentrarsi, problemi di memoria, sintomi gastrointestinali, alterazioni dell'olfatto di busto. In Italia qualcuno, e anche nel mondo scientifico, inizia parlare di sindrome post-covid, che magari anche capire se è la stessa, la definizione di long covid si applica anche in questo caso, sono cose diverse. Le ricerche scientifiche inerenti in questi pazienti sono ancora poche, con tessure estretti campioni. Che cosa ci può dire a riguardo? Ma ci sono alcuni parametri di riferimento, tipo la gravità della forma acuta sofferta, è di solito proporzionale alla durata e a quelli che sono le complicanze successive. In generale, questo è anche legato ovviamente all'età e legato alle comorbidità. Sono allo studio una serie di iniziative, di indagine per capire la fisiopatologia di quelle che sono queste lesioni, che sono per esempio a livello polmonare a carattere fibrotico, ma che coinvolgono tutto il microcircolo, cioè la nostra circolazione a livello sistemico. Vi faccio un esempio, noi siamo abituati a considerare a trattare la patologia polmonare per motivi legati al fatto che il rischio, diciamo, di decesso è soprattutto legato all'insufficienza respiratoria. Ma se andiamo per esempio a guardare il cuore, vediamo come questo insulto virale si caratterizza per un interessamento proprio dei vasi più piccoli, il microcircolo, diciamo, è una microtrombosi, diciamo, a livello proprio del microcircolo, laddove magari i coronari nelle sezioni medie e grandi non sono interessati. Cosa vuol dire questo? che noi dobbiamo pensare che abbiamo subito un insulto alla circolazione un po' in tutto l'organismo e che la gravità di questo insulto poi condiziona effettivamente dei tempi di ripresa, di ricostruzione di tutto l'endotelio, ma anche di ripristino di tutta una serie di tessuti che sono stati, sono andati variamente in necrosi o comunque in sofferenza ischemica che effettivamente nel tempo andranno spiegati e andranno anche gestiti con terapie che permettono, diciamo, una più rapida ripresa. Però questo sarà un problema del dopo, ecco, al momento purtroppo abbiamo talmente tanti casi in acuzie e siamo interessati in questa fase evidentemente a quella che è la priorità, cioè cercare di ridurre la mortalità e la sofferenza di chi si ammala in questo momento. di ridurre la mortalità e la sofferenza di chi si ammala in questo momento. Grazie.